è la profonda libertà interiore di San Francesco d'Assisi. Credo che Francesco piaccia a tutti credenti e non credenti per questo spirito di libertà che lo rendeva fratello universale di tutti. E credo che Papa Francesco abbia impersonato proprio questo senso di libertà profonda come uomo, come vescovo, come Papa per cui lo sentiamo tanto vicino perché è tanto vero, tanto autentico. Lo sentiamo uno di noi perché sa dire parole autentiche per la vita di ciascuno e sa guidare davvero sui sentieri del Vangelo. Per primo come testimone, come uno che insegna testimoniando con la propria vita.